Buongiorno a tutti, oggi vi propongo in affitto un box sito nella zona del Campoconi e più precisamente la via è Via Ceva, Via Ceva è una parallela di Via Marchesi perfetto, allora qua siamo nella Via Ceva, adesso andiamo al cancello ecco tenete conto che qua il cancello non è automatico, quindi è all'apertura manuale ok, bene, adesso entriamo nel vialetto che ti porta ai box dietro allora, cosa molto bella è che qui il box è al piano terra quindi se hai macchina GPL o qualsiasi altra macchina che nei sotterrani non possono stare qua la puoi parcheggiare tranquillamente eventualmente se uno non ha la macchina può utilizzarla anche come deposito mobili o deposito di qualsiasi altra cosa, ovviamente non infiammabili ok, è il primo, un bel box, diciamo ideale per una macchina di media cilindrata ok, adesso qua vediamo da dietro, perfetto, adesso usciamo e qua ci sono spazi molto ampi per poter fare manovra se si ha la macchina grazie 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 grazie